Una serata dedicata ai magistrati, alle forze dell'ordine e a tutte le vittime della criminalità organizzata. Questo è lo sfondo della manifestazione Premio Internazionale della Bontà, che quest'anno, giunto alla sua dodicesima edizione, è arrivato a Napoli. Ad ospitare il Comitato della Croce, presieduto da Fiorenzo Tommasi e che da vent'anni opera a Cazzarvere in provincia di Venezia, è stata la chiesa di San Carlo Borromeo alle Brecce, insieme a Don Luigi Merola, grazie anche al coordinamento della Quarta Municipalità di Napoli, presieduta da Armando Coppola. C'è il Premio Internazionale della Bontà oggi e non poteva mancare Don Luigi Merola? Sì, siamo la location e la parrocchia di San Carlo Borromeo. Vivremo questa serata insieme a tutti i protagonisti dell'impegno quotidiano, forse l'ordine come semplici cittadini. Vogliamo celebrare questa giornata come se fosse la quotidianità, non è comunque qualcosa di eccezionale. Lo facciamo in territorio degradato, come il quartiere Gianturco. Dopo Forcella siamo qui per bonificare anche questo territorio. Avere fiducia nelle forze dell'ordine, farsi guidare da loro e non sottrarsi mai al proprio dovere di cittadino. Essere cittadini è il modo migliore per contrastare la criminalità. È un grande onore per noi essere presenti qui a Napoli e essere ospiti di Don Luigi in una realtà piuttosto difficile. Portiamo, spero, un messaggio di speranza e la condivisione dei problemi che ormai sono comuni in tutto il paese. Attraverso il Premio Internazionale della Bontà si assegna ogni anno un riconoscimento a chi si è reso disponibile ad aiutare il prossimo. Quest'anno la commissione, presieduta da Luigi Zuin, ha deciso di assegnarlo a Silva Ebol, madre di sette figli, la quale divide il proprio tempo tra famiglie e il Pakistan, dove aiuta e soccorre i bambini più poveri e bisognosi di cure mediche. Il ricordo più bello che ha del Pakistan? Il ricordo più bello è che dobbiamo tanto imparare della gente lì, della cultura musulmane, perché loro ti accolgono come un membro della famiglia e quindi mi sento molto bene lì. Tra i vari riconoscimenti durante la serata non sono mancati quello al magistrato Anna Maria Picozzi, al cardinale Crescenzo Sepe e al generale Carmina Di Nolfi del comando Legione Carabinieri Campania. A quelli portatori di morte che cercano di oscurare anche le tante cose belle che ci sono, noi rispondiamo accendendo questi fari di civiltà, di umanità e di solidarietà che quindi è anche profondamente cristiano.